Gabriele Ricci, 28 anni, è il candidato sindaco dello schieramento democratico. Nella sua corsa verso la più importante carica amministrativa domese, sarà appoggiato dal PD e si lavora da altre due liste civiche. Una di queste potrebbe essere composta da soli giovani. Ricci, imprenditore di professione, è stato in passato segretario dei DEM domesi. Il suo nome circolava da tempo. L'altra sera, online, come si conviene in epoca Covid, l'assemblea degli iscritti del PD di Domodossola ha dato il via libera alla proposta arrivata dalla segreteria. Slittata in autunno le elezioni, Ricci avrà sei mesi di tempo per far conoscere ai DEM la sua proposta amministrativa. Ha le idee chiare sul da farsi, rilanciare la città. Vorrei che i giovani potessero trovare risposte occupazionali dove vivono e vedere la città trasformarsi in ottica green, il sogno dell'aspirante sindaco. Sa bene che la sfida contro Lucio Pizzi non sarà facile. È stato un bravo sindaco, dice, quello che noi vogliamo fare è di andare oltre a quello che lui ha fatto. Del resto ha portato a compimento progetti avviati dall'amministrazione Cattrini. Azionista di maggioranza del progetto Ricci è il PD. Il partito sta lavorando alla terza lista a supporto della candidatura Ricci. Si sa già che sarà una lista aperta anche al contributo di chi non è iscritto al partito. Fra i 16 nomi che la comporranno ci sarebbe quello di qualcuno che ha già corso alle precedenti tornate elettorali. Salvo cambiamenti, nessun ritorno di Big. Antonio Leopardi, segretario cittadino del PD, spiega così la candidatura di Gabriele Ricci. La città sta cambiando anche dal punto di vista demografico. Stiamo assistendo ad un calo di residenti. L'emergenza sanitaria in atto aggraverà questo dato. Crediamoci sia bisogno di nuove energie per rilanciare in ottica green la città anche da questo punto di vista. Gabriele Ricci incarna questa necessità.